Finalmente abbiamo le comunicazioni ufficiali del CBOI, infatti a partire da domani alle 15.30 italiani saranno lanciati gli Ethereum Spot ETF sulle borse americane. Ciao a tutti ragazzi, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video, innanzitutto vi auguro un buon lunedì mattina a tutti, un buon inizio settimana a tutti e ragazzi oggi, essendo lunedì, voglio andare a mostrarvi tutte le cose importanti, tutte le news e soprattutto tutti i dati e gli eventi che si potrebbero e si verificheranno durante questa settimana che impatteranno il mercato a partire proprio dagli Ethereum ETF, come abbiamo visto nell'into di questo video. Ma ragazzi abbiamo altre cose interessanti come per esempio i flussi dal punto di vista istituzionale e moltissime altre cose. Prima però di andare a vedere tutto nel dettaglio, diciamo come sempre di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoci al canale stesso, hai fatto? Perfetto, basta perderci in chiacchiere e passiamo con la visuale a PC. Allora ragazzi, io direi, essendo lunedì, di andare a vedere questa settimana cosa succederà dal punto di vista dei dati macro. Oggi per esempio non abbiamo niente di troppo importante, infatti saltiamo subito a giovedì 25 dove abbiamo il PIL statunitense. Ricordo che è uno dei dati più importanti, se non il dato più importante per farci capire come si sta comportando l'andamento, la crescita o la decrescita in questo caso dell'economia americana. Stiamo parlando di un dato, ovvero il PIL del quarter 2, che gli analisti si aspettano una crescita dello 0,5% rispetto al dato precedente che era di 1,4%, infatti il dato attuale in aspettativa è 1,9%. Inoltre abbiamo un initial jobless claims, anche qui dato importante per quanto riguarda il mercato del lavoro, infatti ci fa capire il mercato occupazionale degli Stati Uniti, come si sta comportando, ma soprattutto abbiamo anche venerdì 26 luglio il call PCA price index, sia dato month over month, ovvero mensile su mensile o annuale su annuale. Attenzione perché dal punto di vista della finanza tradizionale non è finita qui, infatti a partire proprio da domani, soprattutto domani, oltre a, come andremo a vedere a brevissimo, saranno lanciati gli Ethereum ETF, secondo appunto un report ufficiale del CBOI. Vediamo come abbiamo gli earnings di due delle principali aziende che influenzano in questo caso l'economia americana, ma diciamo gli indici globali più grandi come per esempio lo Standard & Poor's, Nasdaq, eccetera, eccetera. Vediamo come abbiamo gli earnings di Alphabet, sia A e C, che appunto sono le due divisioni di Google, così appunto per parlare terra a terra. Inoltre abbiamo anche gli earnings di Tesla, quindi ragazzi attenzione perché nel breve termine potremmo vedere un bel po' di volatilità derivante da questi earnings, soprattutto per quanto riguarda le relative stock e tutti gli indici che ne contengono e hanno un grosso peso per quanto riguarda queste stock. Partiamo invece con la notizia super importante, infatti è ufficiale. Biden si ritira e appoggia Harris, la vicepresidente batterò Trump. In pratica ragazzi, nella giornata di ieri tramite un comunicato ufficiale pubblicato appunto anche da Joe Biden, dichiara che lascia la corsa alle presidenziali 2024, appoggiando col tempo Kamala Harris, che molto probabilmente prenderà il suo posto per le prossime presidenziali. Infatti Kamala Harris a questo punto ha accettato l'investitore di Joe Biden, che ricordo quest'ultima è attualmente la vicepresidente attualmente in carica. Staremo a vedere come si evolve questa situazione. Sicuramente ragazzi sarà più dura per quanto riguarda Trump, anche perché anche il mondo intero si era convinto e aveva visto evidentemente che Joe Biden non era più in grado di fare il presidente, di conseguenza era per Trump, molto probabilmente era come rubare le caramelle ad un bambino, però adesso diciamo che la situazione quantomeno si complica un pochino, ok? Tornando sempre a parlare di Trump, vediamo come Donald Trump, secondo un report del New York Post, sta considerando, qualora ovviamente venisse eletto come presidente, appunto nelle prossime presidenziali, di assumere e assegnare il posto, la carica del segretario del tesoro, al BlackRock CEO Larry Fink. Ragazzi sarebbe una cosa pazzesca. Adesso appunto stiamo parlando di rumors, anche rumors comunque sia abbastanza ufficiale, dato che è stato riportato al New York Post, però comunque sia prendiamo queste informazioni con le pinze. Comunque sia, ragazzi, tornando sul mercato delle criptolute, ufficiale si parte con gli ETF Ethereum il 23 luglio, precisamente alle 15.30 italiane. Questo è un report ufficiale riportato dal CBOI, infatti dichiara che Fidelity Spot Ethereum ETF, e a cascata ovviamente anche tutti gli altri compliant, partiranno il proprio trading a partire da il 23 luglio del 2024. Ora qui ci tengo a fare una piccola parentesi per quanto riguarda la situazione di Ethereum, come si potrebbe comportare nel breve termine, perché infatti qui stiamo parlando di breve termine. Vi ricordate cosa è successo con il lancio dei Bitcoin Spot ETF? Molto semplicemente abbiamo visto un sell the news. Perché? Perché tendenzialmente la maggior parte delle persone, degli investitori, eccetera, eccetera, si aspettavano un'approvazione, soprattutto per quanto riguarda gli ultimi giorni. Infatti avevamo visto varie indicazioni, vari listing e varie comunicazioni. Anche la SEC appunto ci faceva capire come la percentuale di probabilità di un'approvazione appunto di Bitcoin ETF era molto molto alta. In questo caso, ragazzi, è ancora più scontato dal mercato, perché abbiamo delle comunicazioni ufficiali. E soprattutto, ragazzi, secondo me, e ovviamente non ho la sfera di cristallo per andare a darvelo con certezza, come nessun altro, però potrebbe esserci un sell the news, perché ancora più della situazione appunto dei Bitcoin ETF per l'Ethereum ETF, avendo un metodo di paragone come appunto Bitcoin, e soprattutto vedendo la situazione che ormai tutti hanno scontato questa notizia, potrebbe esserci un sell the news. Quindi, ragazzi, fate moltissima attenzione, perché ovviamente sto parlando di breve termine. Comunque sia, passiamo con una situazione per ciò che riguarda la SEC e in questo caso Ripple Labs. Ripple probabilmente, si va verso la chiusura del caso, si è espresso appunto Garlic House, che è appunto il CEO di Ripple, e ha parlato di Very Soon. Very Soon, ciò vuol dire, lascio a intendere che molto probabilmente nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, potremo vedere una vittoria per quanto riguarda Ripple contro la SEC. che contrassegna logicamente, o meglio potrebbe contrassegnare logicamente, un impatto positivo per quanto riguarda XRP. Attenzione, prendiamo in considerazione il governo laborista britannico, ciò vuol dire appunto United Kingdom. Vi ricordate che uno dei catalizzatori, che comunque ha creato selling pressure su Bitcoin nelle scorse settimane, era proprio il governo tedesco, che dampava i suoi 50.000 Bitcoin. E adesso, secondo quanto riportato dal sito di analitica Arkham Intelligence, vediamo come il governo britannico detiene circa 61.245 Bitcoin, praticamente un quinto in più rispetto a quanto deteneva in precedenza, agli albori appunto, lo stesso governo tedesco. E la domanda che tutti si stanno facendo nelle ultime ore è, il Regno Unito andrà a dampare questi Bitcoin proprio come ha fatto la Germania? Ragazzi, ci sono diversi indicazioni che potrebbero comunque sia darci un'idea, ovviamente stiamo parlando soltanto di speculazioni per adesso, però comunque sia, Rachel Reavis, che praticamente è il colei che amministra questo capitale, detto molto terra terra, potrebbe decidere di liquidare questi Bitcoin nell'ambito dei piani del governo lavorista, questo al fine di promuovere la stabilità e la crescita economica. Infatti, stando a una dichiarazione letta da Re Carlo III in data 17 luglio, praticamente settimana scorsa, i lavoristi daranno priorità alla costruzione di alloggi a prezzi accessibili al miglioramento del sistema ferroviario nazionale, ragazzi. Quindi, praticamente potrebbero decidere nel prossimo settimana e nei prossimi mesi di andare a dampare questo quantitativo di Bitcoin, questo al fine di andare a raccimolare capitali, per andare a sviluppare questi progetti, questi progetti di costruzione, ampliamento, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, attenzione, perché una dei prossimi, tra virgolette, cigni neri, che poi in realtà non è un cigno nero, perché se diverse persone se lo aspettano non è un cigno nero, però comunque sia, una prossima selling pressure potrebbe derivare dal governo britannico, quindi ragazzi fate moltissima attenzione. Molto interessante prendere in considerazione i Bitcoin ETF inflow di scorsa settimana, prendendo in considerazione ovviamente solo la scorsa settimana, e i nuovi Bitcoin minati. Vediamo come i nuovi Bitcoin minati equivalevano, durante ovviamente la scorsa settimana, da lunedì al venerdì, circa 2250 Bitcoin. E nello stesso lasso di tempo, i Bitcoin che sono stati assorbiti dagli strumenti ETF, solo sulle borse americane, corrispondono a circa 18.544. Praticamente stiamo parlando di più di nove volte, quasi dieci volte, l'equivalente dei Bitcoin minati che sono stati assorbiti appunto da questi strumenti. A proposito di Bitcoin ETF, ragazzi, la giornata di venerdì è stata una giornata super positiva, non è stata la migliore di settimana scorsa, perché infatti a partire dal 16 abbiamo visto un inflow di circa 6530, ma direi che anche quella di venerdì non è andata male, tra l'altro abbiamo avuto tutti gli strumenti che sono andati in positivo, hanno avuto appunto un esito positivo di inflow, con un cumulativo di circa 6.000 Bitcoin. Non è affatto male per niente. Ci avete fatto caso che proprio a partire da metà settimana scorsa Bitcoin ha incrementato il proprio prezzo? E non è, e ripeto, non è assolutamente un caso se prendiamo in considerazione anche il global money supply. Ciò vuol dire che stiamo parlando della disponibilità di denaro fiat che è disponibile a livello liquidità. Abbiamo visto un aumento di liquidità, aumento anche abbastanza interessante che almeno stando a questi dati abbiamo toccato gli all-time high per poi ricorreggere brevemente. Infatti parte dei capitali molto probabilmente abbiamo visto come sono fluidi attraverso Bitcoin. Come vi ho sempre detto ragazzi, non può essere che Bitcoin a livello statistico possa salire per un lungo lasso di tempo se non c'è liquidità sui mercati. Però tuttavia, all'aumento della liquidità tendenzialmente Bitcoin potrebbe e ha una buona possibilità di farlo avere un periodo positivo appunto portato da nuova liquidità che entra sui vari asset in questo caso a risk on. Ragazzi vi ricordo che per i nuovi iscritti a Bybit c'è la possibilità di ottenere 500 USDT di position airdrop position airdrop che può essere utilizzato su varie copie come per esempio BTC, Ethereum, Solana, Dogecoin eccetera eccetera. Ovviamente se andiamo a speculare sul mercato dei futures contro Tether ovvero USDT, la stablecoin più importante almeno per adesso. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per chi volesse iscriversi a Bybit che è oltre il 20% di sconto sulle trading fees avete anche questa promo molto molto interessante. Perfetto ragazzi passiamo con il vedere come si sta comportando il mercato nelle ultime 24 ore. Vediamo come nelle ultime 24 ore abbiamo un mercato abbastanza misto infatti abbiamo HNT che guadagna un 15% AVAX un 12,2 TIA un 9,2 ma allo stesso tempo per esempio abbiamo comunque delle altcoin che stanno perdendo terreno come per esempio AR perde un 4,1% GRT un 2,1 e in linea generale comunque la situazione è questa diciamo un po' mista ma passiamo con il vedere come si stanno comportando i big infatti Bitcoin guadagna un 1,15% praticamente assistendo il proprio prezzo poco sotto i 68.000 dollari 67.963 dollari e soprattutto portando una performance sul settimanale dell'8,26% è positivo non male assolutamente Ethereum rimane un pochino più stabile infatti diciamo che è quello che sta un pochino più compressando comprimendo la situazione dato che come abbiamo visto anche all'interno di questo video abbiamo l'ufficiale ovvero domani sarà lanciato e quotato sui mercati quindi staremo a vedere un po' la situazione come si evolverà comunque sia rimane a 3.519 dollari assistata una performance dello 0,17% nelle ultime 24 ore come abbiamo visto siamo leggermente in salita per quanto riguarda la Global Crypto Market Cap in salita di un 1% ma andiamo a vedere come si sta comportando Bitcoin infatti Bitcoin ha esattamente evidenziato il pattern che avevamo visto durante appunto il video di venerdì avevo detto ragazzi come questo spring verso rialzo dove è andato a rompere il massimo del primo luglio deve essere una zona fertile per un possibile ritracciamento per poi una riportenza verso rialzo andando a toccare come next target proprio questo qui quello che abbiamo sfondato nelle scorse ore ok infatti abbiamo visto come impulso ritracciamento impulso che attualmente vista la situazione visto soprattutto la chiusura che abbiamo segnato praticamente sette ore fa stiamo vedendo come abbiamo la possibilità di andare a prendere i massimi precedenti ovvero i massimi troccati tra il 20 e il 21 maggio e quelli del 5 e il 7 maggio ok ricordo che qui sopra c'è un sacco di liquidità da andare a prendere infatti a proposito di liquidità voglio mostrarvi il fatto che sul tre mesi Bitcoin sta andando a prendere tutte le zone di liquidità che praticamente si erano create con tutte le posizioni short durante il crollo dai 72.000 dollari fino ai 53.000 dollari infatti negli scorsi giorni ha preso quelli in zona 65.000 dollari ha preso proprio nelle ultime ore tra i 67.000 e i 68.000 dollari staremo a vedere appunto come si evolve la situazione perché ricordo la zona più importante da andare a prendere è esattamente questa ovvero tra i 72.300 dollari fino ai 72.800 dollari ok che ovviamente stiamo parlando della liquidità al di sopra di questi massimi e una volta presa questa liquidità ragazzi c'è soltanto gli all time high da andare a prendere anche se a livello di struttura daily non è che ci separa chissà quale supporti o resistenze tra la zona di livello che ci troviamo adesso e ovviamente anche i massimi storici per ciò che riguarda invece l'aggregate d'open interest vediamo come in concomitanza dello spring realsista che ha portato appunto Bitcoin dai 63.600 dollari fino a praticamente i livelli odierni ovvero i 68.500 dollari abbiamo visto come abbiamo incrementato quasi 2 miliardi di open interest praticamente buona parte anche della salita è portata appunto anche dal mercato dei derivati parlando di Ethereum la situazione comunque sia non è messa male assolutamente anzi ieri con la chiusura daily ha dimostrato di avere abbastanza pressione realsista infatti abbiamo toccato un minimo a 3.411 per poi chiudere a circa 3.553 praticamente con un'escursione di circa il 3.62% evidenziando come ancora i bulls sono in forte presenza ok questo è evidente che sia un v-shape e a livello tecnico comunque sia non siamo messi malissimo è anche vero che domani potremmo vedere come ho detto prima un sell the news perché comunque sia il mercato già sta scontando il fatto che sono praticamente approvati ok i liti di un mtf e di conseguenza ragazzi una approvazione potrebbe innescare appunto un sell the news ed è per questo che io ne sto alla larga per quanto riguarda il mercato dei derivati su ethereum nelle prossime ore dato che potremmo vedere una movimentazione indotta puramente da emotività ed è molto molto difficile andare a prevederla ovviamente stiamo parlando di movimentazione nel brevissimo termine però comunque si è invito ad stare in allerta il weekly non è messo assolutamente male infatti abbiamo recuperato praticamente tutto il crollo che ci ha portato tra la settimana del primo luglio dai 3400 fino al minimo dei 2800 abbiamo recuperato in due candele tutto e questo qui sicuramente è un pattern bullish anche per quanto riguarda bitcoin ragazzi una situazione molto molto interessante perché anche qui abbiamo recuperato non soltanto quello della settimana del primo luglio ma abbiamo mangiato anche la candela addirittura dell'impulso ribassista della settimana del 17 e 24 giugno il che non è affatto male praticamente sul weekly siamo quasi in zona massimi non affatto male perfetto ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video mi raccomando se non l'avessi ancora fatto ti chiedo di supportare il canale lasciando semplicemente un like e iscrivendoti al canale stesso per gli iscritti invece noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao